ciao sono il dottor max in questo video ti spiego come si cura la gastrite cronica la gastrite cronica è una condizione in cui la mucosa dello stomaco è infiammata a lungo termine il trattamento della gastrite cronica può dipendere dalla causa sottostante dell'infiammazione gastrica ma in generale il trattamento mira a ridurre i sintomi ea prevenire il peggioramento della condizione ecco alcune delle strategie comuni di trattamento per la gastrite cronica modifiche nella dieta la dieta svolge un ruolo importante nel trattamento della gastrite cronica può essere consigliabile evitare o ridurre il consumo di alimenti irritanti per la mucosa gastrica come cibi piccanti acidi grassi alcoli caffè mangiare pasti più piccoli e frequenti può essere utile per evitare di sovraccaricare lo stomaco farmaci il medico può prescrivere farmaci per ridurre l'infiammazione dello stomaco e alleviare i sintomi della gastrite cronica questi farmaci possono includere antiacidi per ridurre l'acidità nello stomaco inibitori della pompa protonica pp per ridurre la produzione di acido gastrico antibiotici se l'infezione da elicobacter pylori è la causa della gastrite cronica può essere necessario un ciclo di antibiotici protettori della mucosa gastrica alcuni farmaci aiutano a proteggere la mucosa gastrica e a promuovere la guarigione come il sucro alfato farmaci per il controllo del dolore per alleviare il disagio associato alla gastrite cronica eliminazione di irritanti evitare l'uso di farmaci antinfiammatori non steroidei fans come l'aspirina oliboprofene che possono irritare la mucosa gastrica se è necessario assumere fans il medico può prescrivere farmaci protettivi per lo stomaco controllo di altre condizioni di salute se la gastrite cronica è correlata a condizioni mediche sottostanti come il reflusso gastroesofageo gerd o l'anemia perniciosa è importante trattare anche queste condizioni evitare il fumo di tabacco e l'alcol il fumo di tabacco e l'alcol possono irritare ulteriormente la mucosa gastrica quindi evitare o ridurre il loro consumo può essere utile gestione dello stress il controllo dello stress può aiutare a prevenire il peggioramento dei sintomi della gastrite cronica poiché lo stress può influenzare la funzione gastrica monitoraggio regolare il medico può richiedere visite di controllo periodiche per valutare la risposta al trattamento e apportare eventuali aggiustamenti è importante seguire attentamente il piano di trattamento prescritto dal medico e informare il professionista sanitario se i sintomi persistono o peggiorano la gastrite cronica può essere una condizione gestibile con il trattamento adeguato e le modifiche nello stile di vita ma è essenziale collaborare con il medico per affrontare la condizione in modo efficace grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata